Signora Sindaco Caprioglio, a nome della nostra piccola delegazione vorrei ringraziarvi per il vostro invito a Savona. Ci è davvero piaciuto venire per celebrare il trentesimo anniverso della nostra gemellaggio con voi, che stanno, ci saranno ancora degli incontri in occasione di questo anniverso con i cittadini e con i rappresentanti ufficiali delle nostre città come oggi. Il gemellaggio tra città e Europa è anche importante in un momento in cui le idee nazionaliste sono in aumento in molti paesi, in cui anche nei nostri paesi l'idea europea viene respinta, anzi contrastata da alcuni e in cui non troviamo una risposta adeguata per coloro che spesso per bisogno profondo da molti paesi attualmente vogliono l'Europa. In questo tempo dipende da noi, dalle città e dalle comunità, devono risolvere problemi e dare risposte e gemellaggio come la nostra possono essere un supporto importante. Ecco perché non vedo l'ora di rinnovare il legame di amicizia con te, signora Caprioglio. Caprioglio, signora Caprioglio, grazie, grazie mille. Grazie a tutti! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti!